Sono Nico Artat, vengo dalla Germania e sono in Italia da 12 anni. La mia avventura in Aldi è iniziata nell'aprile 2017 come tecnico IT. Da aprile di quest'anno sono un manager e gestisco un team di sei persone. La mia giornata inizia alle 8 e mi confronto come prima cosa con i miei collaboratori sulle attività in scadenza. Il mio team gestisce tra l'altro il service desk dell'azienda che si occupa di tutte le varie richieste e segnalazioni da parte degli utenti in merito all'infrastruttura, ai collegamenti internet per esempio, le stampanti, le postazioni e anche la telefonia. Parte del mio lavoro consiste nello stare a telefono con i miei colleghi del centro logistico ma anche con i colleghi degli altri paesi per aggiornarci sullo stato dei lavori e per condividere anche i progetti comuni. Ogni settimana facciamo una riunione con tutto il team per fare un punto della situazione così ognuno racconta un po' le sue attività. Con i miei collaboratori ho un ottimo rapporto, ci conosciamo molto bene e penso andiamo anche bere un caffè insieme, andiamo in pausa e staccare un attimo per parlare un po' di televita privata. È una bella cosa. La parte più bella del mio lavoro è vedere i miei collaboratori felici e motivati. Per far questo cerco di lasciare più spazio possibile a loro in modo che possono lavorare in autonomia e organizzarsi come pensano loro. Però allo stesso momento cerco di essere un punto di riferimento e di supportarli al meglio. Quando esco alla sera sono soddisfatto perché insieme al mio team abbiamo contribuito alla crescita di Alvin Italia ed è questo che mi rende molto orgoglioso di far parte di questa azienda.